Ben trovati a Toscana Lavoro Anteprima, diminuiscono gli sfratti ma l'emergenza abitativa resta, sono diminuiti come dicevamo gli sfratti ma l'emergenza resta, non ci sono case in affitto per nuove coppie, per famiglie, i tempi brevi, gli affitti nei tempi brevi la fanno da padrone, il che vuol dire che da padrone la fa la rendita. Fateci caso, dai portoni delle città di Firenze, Pisa, Siena ma anche Volterra, perché no, non escono più uomini e donne per andare al lavoro o a fare la spesa, ma escono dei turisti con i trolley che stanno andando in aeroporto. Ne abbiamo parlato in una conferenza stampa. Guai a dire l'emergenza abitativa è finita o comunque sta volgendo al termine, non è assolutamente così. Le donne e il lavoro, intanto sono poche quelle che lavorano, i lavori che fanno generalmente sono di breve durata. Si è riunito in Piercapponi, il Dipartimento Mercato del Lavoro, con il coordinamento donne della CGL Toscana. Il gap salariale resta, è pesante. Ultimamente degli studi ci dicono che è un po' diminuito questo differenziale salariale, ma sapete perché? Perché sono diminuiti gli stipendi degli uomini. Il gap va avanti, aumenta con il tempo di lavoro e questo perché alle donne le carriere sono impedite. L'accesso al mercato del lavoro ancora, purtroppo, contiene troppe discriminazioni. Questa è una delle ragioni per le quali noi stamani lavoriamo insieme al Dipartimento Mercato del Lavoro. I 112 dipendenti della Sanac di Massa si sono ritrovati in presidio in Piazza Aranci della loro città. Vogliono evitare di finire in cassa integrazione. La Sanac produce refrettari per la ex ILVA, l'Arcelor Mittal, attualmente. Questo processo di acquisizione che era in corso si è interrotto per problemi di legge. Arcelor Mittal voleva garanzie rispetto ai danni fatti da chi c'era prima di lei. Bene, ora il decreto che questo problema risolve è effettivo, è uscito sulla Gazzetta Ufficiale e i dipendenti della Sanac vorrebbero che Arcelor Mittal compri e compri definitivamente le loro fabbriche. Noi faremo un modo di tenere compatto e coeso tutto il territorio perché questa soluzione sia una soluzione di prospettiva e di sviluppo. Siamo arrivati allo spazio dello SPI, calcolo della pensione in assero futura, verifica dei cosiddetti diritti inespressi ma anche aiuto per l'attivazione dell'assistenza domiciliare, risposta a esenzioni su ticket sanitari e servizi. A questo e a molto altro rispondono gli sportelli sociali dello SPI CGL, ce ne sono in giro per la Toscana. Noi abbiamo intervistato il segretario dello SPI CGL di Prato, Luciano Lacaria. Ma noi con questo meccanismo capitiamo persone che non erano scritte a noi e vengano da noi perché sono seguite. Ed è tutto per Toscana Lavoro Anteprima, come sempre vi abbiamo mostrato alcune pillole, voi mi raccomando non accontentatevi. Domenica alle 14 su Toscana TV, canale di sotto del Digitale Terrestre, i servizi. Buona visione.